Quando le monofobie diventano sempre più diffuse nella vita della persona, sempre più pervasive nella realtà dell'individuo, quello che accade è che diventano una fobia generalizzata. La paura della paura che scatena il panico. La persona vive le situazioni sempre più come minacciose, sente proprio una sensazione costante di ansia che può poi diventare panico e quindi trasformarsi in una sintomatologia più grave come sensazione di paura forte, di tremori, tachicardia, depersonalizzazione, vertigini. La persona vive in queste situazioni proprio una sensazione di paura di morire oppure una paura di perdere il controllo e può avvenire sia in situazioni specifiche come ad esempio luoghi chiusi oppure luoghi affollati oppure può avvenire invece in situazioni imprevedibili, quindi ovunque ed ovunque. Attraverso la terapia breve strategica quello che si va a fare è intervenire su il blocco che la persona vive riducendo la sensazione di ansia e di panico per poi andare a consolidare questi risultati nel tempo privando la persona della paura ma facendole vivere una realtà molto più serena e equilibrata.